Ecco, qui vi racconterò la storia un'altra volta, perché se no... Siete molto silenziali e questo mi fa ovviamente molto piacere. Tutto bene? Non so se è il luogo migliore per cantare questa canzone qua. No, perché secondo me i miracoli, quelli veri, mi fa la gente in terra, tutti i giorni, quella normale, quella che si alza al mattino, sorride e dice dai che ce la posso fare. Ma come questo, il personaggio di un film bellissimo di David Lynch, forse il suo film più normale, si chiama Una storia vera, questo vecchietto che per andare a trovare il fratello deve usare un tagli a erba perché è l'unico mezzo di locomozione a sua disposizione e fa tantissimi chilometri con questi tagli a erba. E' un miracolo, no? Quindi, io direi che lo stacchi tutto il tempo, perché Alfa ha detto, ma è troppo lenta. Io credo nei miracoli che la gente può fare. Milioni di chilometri senza l'avessi scostare. Milioni di chilometri per potersi incontrare, per guardarsi negli occhi e schiamare le due. E' un gesto che forse sarà l'unico che potremmo ricordare. Io credo nei miracoli che la gente può fare. Milioni di chilometri senza l'avessi scostare. Perché è una storia che prima non nascerà. E' una nuova invenzione, quella che scaverà l'umanità in vera. Forse non sai che la primavera arriverà. Milioni di chilometri senza l'avessi scostare. Milioni di chilometri senza l'avessi scostare. E' una nuova invenzione. Milioni di chilometri senza l'avessi scostare. Mi chiedo il senso di questa parola. Oh, di riduzione. Quale motivo di voi faccia un suono? Pensiero a proposito. Vediamo un po'. Facebook. Sì, tu dai. Sì, anche tu. Anche tu. Sì, famosissima questa sera. Ma poi... Eh? Quanti anni ho? Che carino! Quanti anni ho dimostro, secondo te? Difficile, è una risposta molto diplomatica. Ah, pochissimi, è molto difficile. Dipende, nella storia dell'uomo, pochissimi. Però quando la simpatia abbassa la media. Quindi 32. Mi porto male. Facciamo 74. Così. Così vi porto benissimo. Vediamo un po'. Sì, scusate. Sì. In fondo non ci arrivo. Sicuramente tutti quelli. Da un certo punto in poi. Ma anche da un certo punto in avanti. Sì. Però io adesso, secondo me, questa sera c'è proprio quella signorina che ha cantato prima di me, alla quale fare un grande applauso. Sì. 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 Sì.